Preside Trentacarlini, tra qualche giorno, il 26 ottobre, un ragazzo che ha frequentato il liceo scientifico delfico verrà insignito di un importante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica. Sì, lo studente si chiama Emanuele Volpini, ha frequentato l'ultimo anno liceo scientifico, o meglio, tutto il percorso scientifico da noi ed è stato insignito insieme a altri 24 studenti d'Italia come alfiere del lavoro. Ogni anno la Federazione dei Cavaliere del Lavoro premia 25 migliori studenti d'Italia proprio con questa qualifica. Noi siamo stati ben contenti di segnalare lo scorso anno scolastico, quando è uscito il bando, questo studente per meriti studenteschi eccezionali, per cui siamo veramente orgogliosi e felici di questo riconoscimento che non solo premia il ragazzo, ma premia anche la qualità della nostra scuola che ha accompagnato, come dire, per tutti i percorsi di studio di questo ragazzo, per questi risultati veramente importanti. Noi siamo particolarmente felici e orgogliosi, non solo perché il ragazzo appunto per i suoi meriti, per i risultati raggiunti a scuola ha avuto questo riconoscimento, ma anche perché il ragazzo merita anche dal punto di vista umano, perché è un ragazzo veramente di grandissime qualità umane. Il Presidente della Federazione Nazionale Cavaliere del Lavoro ha mandato anche un messaggio di congratulazioni a questo istituto. Sì, esatto, è arrivato un messaggio bellissimo, l'abbiamo apprezzato ovviamente tanto, hanno mandato ovviamente poi una comunicazione e le congratulazioni direttamente al ragazzo, che appunto parteciperà a questa cerimonia presso il Quirinale. Peccato che per motivi di pandemia non accettano altri accompagnatori, quindi non possiamo, diciamo sì, accompagnarlo. Saremmo stati anche felici di accompagnarlo in questa occasione. Lui è venuto qui ieri a salutarci, a ringraziarci ed è stato anche un momento, come dire, anche commovente. Per cui, ripeto, ribadisco il fatto che siamo orgogliosissimi e felicissimi per lui e siamo stati veramente felici di poter contribuire a questo riconoscimento, che per lui è anche molto importante per il suo percorso universitario, perché la Federazione Cavaliere del Lavoro mette a disposizione questi 25 studenti che hanno avuto questo riconoscimento anche il loro collegio per poter usufruire del vitto e alloggio gratuitamente per tre anni durante il loro percorso universitario. Questa notizia è stata accolta con gioia perché davvero in lui riconosciamo il merito e riconosciamo il fatto che c'è ancora spazio per gli alunni meritevoli, quindi siamo davvero contenti per Emanuele. È stata una gioia immensa ricevere questa notizia e devo dire che ieri ho detto da quando sono nata non avevo mai visto prima d'ora in questo paese premiare veramente il merito, quindi è un messaggio straordinario che ci arriva alla fine di una pandemia, quindi alla fine di un anno e mezzo di scuola veramente difficoltosi, quindi è un bel messaggio per tutta la città, oltre che per la nostra scuola. Vorrà impegnarsi nella ricerca scientifica, ha detto. Eh sì, lui era particolarmente anche dotato per le materie scientifiche, in particolare è appassionato di scienze. È stato sempre una sua grande passione, non ha mai cambiato prospettive, quindi non è nata con il Covid questa sua passione, ma l'ha avuta da sempre, dal primo anno.